Un viaggio fotografico per promuovere Sciacca e le sue bellezze è quello che fa la giovane Saccenze Valentina Indelicato e ne i tesori di Sciacca. Un book con le foto dove la giovane attrice e modella si fa immortalare tra le bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali della città. Il porto, la scalinata delle terme, le scale che conducono al quartiere Marinai, il caricatore, i vicoli e la piazza Angelo Scandaliato sono immortalati e condivisi sul portale per professionisti LinkedIn. Un viaggio che ha già raggiunto la cifra di un milione di visualizzazioni e che rappresenta veicolo di promozione dell'immagine della giovane Saccenze e, attraverso lei, della città tutta. Il successo delle foto di Sciacca credo stia nel fatto che se non siano modificate ci sia un testo storico, culturale o gastronomico che spiega la foto stessa, afferma Valentina Indelicato, attrice che ha studiato a Roma presso le accademie di Rossella Izzo e Giulio Scarpinati e che è reduce da un casting per Rai Fiction.